Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze della nostra carissima web radio per una nuova puntata dedicata alle catechesi sul più santo dei santi. Quindi sapete che dalla volta scorsa stiamo seguendo un ciclo nuovo di catechesi intitolato Pratiche in onore di San Giuseppe dal testo di un padre teologo giuseppino, padre Tarciso Stramare, che ha fatto una rassegna diciamo così esaustiva e completa da un punto di vista storico delle principali pratiche in onore di San Giuseppe che noi stiamo adesso analizzando e seguendo per imparare a crescere nell'amore attraverso questo santo anche e soprattutto attraverso l'ausilio della nostra preghiera e di queste preghiere che sicuramente tra le tante qualcuna incontrerà il nostro favore anche personale sapete che il motivo per cui c'è qualcuno che a volte si chiede ma che servono queste devozioni perché proliferano tutte quante queste devozioni proliferano tutte quante queste devozioni perché il cuore dell'uomo è fatto così e il nostro Signore non si scandalizza anche delle nostre miserie e debolezze ma come sempre usa fare nei confronti del male appunto le usa a fin di bene quindi intercetta queste nostre appunto umanità e imperfezioni non radendole al suolo ma elevandole quindi in qualche modo venendoci incontro per donarci diciamo così per donarne a tutti secondo i gusti di tutti ecco quindi ecco questo è un po' lo stile di agire della Santissima Trinità e del nostro caro Sommo d'Eterno Dio e noi lo ringraziamo ovviamente per questo detto questo riprendiamo il discorso da dove l'abbiamo lasciato la settimana scorsa e quindi ritorniamo a riprendere il nostro discorso interrotto ci siamo fermati la volta scorsa se ricordate ai sacramentali in onore di San Giuseppe sacramentali che io non ho avuto modo poi di sentire e di seguire il seguito della trasmissione non so se Antonio ha avuto modo di poter in qualche modo verificare se dove e come ancora esistono se lo sta facendo magari ancora in questi giorni eventualmente contattate la redazione della radio insomma non me personalmente perché qualcuno mi ha fatto arrivare qualche contatto in merito perché sinceramente non saprei come fare Radio San Giuseppe per chi l'ascolta che ovviamente è presente online ha anche una pagina Facebook dove eventualmente si possono rivolgere tutte le domande al direttore ecco che è un po' incaricato di seguire un po' tutto il palinsesto dei programmi e dei lavori insomma anche quindi di queste cose ovviamente i tipi e i testi delle catechesi anche tenute da me le concordiamo insieme quindi ovviamente il direttore sa di che cosa parlo e quindi avrà avuto modo anche lui insomma di documentarsi se è possibile in qualche modo reperire e dove questi sacramentali perché alcuni sacramentali penso per esempio all'Agnus Dei o al cappuccio di Sant'Ubaldo sono tantissimi sacramentali diffusi bisogna sapere dove andare a trovare il cappuccio di Sant'Ubaldo per esempio si trova ad Assisi è l'antichissimo sacramentale dell'Agnus Dei o al cappuccio di Assisi scusate a Gubbio nella cattedrale proprio dedicata a Sant'Ubaldo che è il patrono di Assisi tra l'altro vescovo e grande esorcista mentre l'Agnus Dei si trova in un monastero di Roma sinceramente che non ricordo neanche bene dove lo so, lo so mio amico quindi questo per dirvi che ci sono i sacramentali comuni tipo l'acqua, l'olio, il sale l'olio, le candele, l'incenso che si possono far benedire da qualunque sacerdote della chiesa cattolica questi chiaramente sono legati un po' all'ambiente l'olio della terra santa, vari oli insomma legati, l'acqua di Lourdes sono tutti sacramentali questi qua quindi anche qui il Signore non cessa di dareci mezzi e strumenti per premonirci e difenderci dalla forza del mare ma gli uomini purtroppo con i sacramentali ne fanno un uso un po' così nel senso che o li disprezzano o fanno finta che non esistono oppure ne fanno un uso malsano che diventa quasi superstizioso o magico per cui anziché servire a difendersi dalle forze del male ne ulteriormente alimentano e aizzano diciamo l'azione perché quando la fede e la devozione diventa superstizione cioè io mi rivolgo a queste cose come se fossero delle pozioni magiche che mi salvano dal male a prescindere da un mio coinvolgimento personale in una vita di fede vissuta, sacramentale e di osservanza dei comandamenti chiaramente ne sono completamente stravolti nella funzione e danno luogo a quegli abusi che poi come sempre accade nelle opere del demonio per reprimere gli abusi giustamente da parte anche a volte dell'autorità ecclesiastica succede che si butta l'acqua sporca con il bambino così faccio questo discorso anche per mettere un pochino le mani avanti cioè tutte quante queste pratiche in onore di San Giuseppe ecco vanno intese nel modo in cui vi ho detto nel senso sono gesti della longanimità, della bontà, della misericordia di Dio per venire in conto alla nostra debolezza chiaramente un uso improprio di queste cioè mettiamo una persona che dalla mattina alla sera si mette a fare tutte queste pratiche in onore di San Giuseppe in maniera disordinata e come dire gli psicologi direbbero compulsiva ecco farebbe chiaramente una stortura una cosa che non va bene ecco la si usi nei giorni poi lo vedremo dedicati a San Giuseppe nel mese di San Giuseppe uno ne sceglie uno o una delle cose che vedremo o anche una preghiera al giorno magari o due preghiere al giorno in onore di San Giuseppe per carità ecco l'importante è che ci sia sempre in tutte queste cose come in tutta la vita di fede la moderazione e l'equilibrio che non è tiepidezza ecco state attenti eh ma è retto uso delle cose che Dio ci ha dato per il bene ecco perché il troppo stroppia dovunque anche nelle cose sacre e anche nelle cose sante ecco io qualche volta ho dovuto riprendere qualche animo un po' troppo zelante e devota perché per essere un po' troppo presente tra le sacre mure di qualche sacra chiesa poi andava a trascurare la famiglia i mariti e figli allora questo chiaramente è un disordine perché se tu sei una laica consagrata nel mondo e vuoi statene tre ore al giorno in chiesa quattro pure fai pure a me dopo che hai lavorato ovviamente hai del tempo a disposizione l'hai proprio dedicato al Signore ma se tu sei un marito e figli già se riesci ad andare a messa tutti i giorni è un mezzo miracolo quindi contentati e poi il resto lo devi passare a fare la volontà di Dio che ti ha voluto a sposa e madre e non tutto il giorno dentro la chiesa no? perdonatemi se mi sono dilungato però ho avuto già anche qualche piccolo riscontro personale e quindi mi sentivo in dovere di fare questa piccola postilla mi perdonerà anche Antonio ma che comunque credo che per quanto lo conosco sia perfettamente d'accordo nel merito almeno con quanto ho detto allora andiamo avanti con le pie pratiche in onore di San Giuseppe ricomincio la lettura del test probabilmente è legata alla spiritualità del padre Bartolomeu de Quental perdonatemi che io purtroppo con le lingue straniere ecco salvo l'inglese e lo spagnolo ecco potrei avere delle pronunce non del tutto corrette degli oratoriani in Portogallo colà stabiliti nel 1668 la propagazione nel secolo successivo di una devozione speciale verso la trinità creata sia sotto i simboli dei cuori di Gesù Maria e Giuseppe sia sotto quello della fuga in Egitto tale festa era molto popolare a Porto e il Papa Benedetto XIV aveva permesso agli oratoriani nel 1754 di celebrare la solennemente la quarta domenica di aprile Roma condannò nel 1879 e nel 1893 la rappresentazione artistica dei tre cuori uniti di medaglie immagini pitture e sculture questo è evidentemente un caso di qualche abuso ecco attenzione che qui ecco la devozione santissimi cuori dei sovrani signori Gesù Maria e Giuseppe è testimonata dal 1733 con un santuario a Porto e una confraternita a Oruo Preto Brasile esistente nel 1785 a Siviglia una confraternita professava nel 1744 la schiavitù del sacro cuore del gloriosissimo signore San Giuseppe la devozione al cuore di San Giuseppe si diffonde nel Messico nel 1747 una pia unione del purissimo cuore di San Giuseppe fu promossa dal padre Michele Bocco nel 1846 si diffusi in Italia Francia Austria Germania raggiungendo 30.000 iscritti il culto del sacro cuore di San Giuseppe venne il culto non conservò tuttavia il favore della chiesa che lo disapprovò nel 1873 io mi riservo ascoltatori carissimi di andare un attimo a verificare insomma chiedo anche ad Antonio di poterlo fare perché quando sento queste cose qui cioè per dire la chiesa lo disapprovò bisognerebbe che sia intervenuto direttamente un pontefice per usare questo termine forte non uno degli organi diciamo così di di governo ordinario della chiesa ecco perché gli organi di governo ordinario della chiesa quando prendono decisioni di tipo disciplinare ecco non sono sempre come dire infallibili ecclesialmente parlando ecco e addirittura su una decisione disciplinare non so se ne ho parlato qui su Radio San Giuseppe voi sapete che quando fu eletto Bergoglio recentemente qualcuno si aspettava che avrebbe preso come nome Clemente XV mi sembra che sia perché questa cosa qui ecco perché un suo predecessore io non mi ricordo se ne ho parlato qui in questa sede per cui perdonatemi se mi sto ripetendo che era appunto l'ultimo Clemente aveva fatto un guai nel senso che per motivazioni per malinformazioni per altre questioni aveva addirittura disciolto la compagnia di Gesù che poi grazie a Dio è stata ricostituita da uno dei suoi successori no a me sembra quindi questo questo per dire che attenzione perché sulle decisioni disciplinari io personalmente e parlo insomma da persona che ha studiato la teologia dogmatica perdonatemi se lo devo dire prima di usare il termine la chiesa in senso forte in senso stretto ci penso 100 miliardi di volte d'accordo perché un conto è dire la disciplina della chiesa oppure un provvedimento disciplinare preso da questo di castero un conto è parlare della chiesa perché la chiesa la chiesa santa o una santa cattolica apostolica non può sbagliarsi nel credere ecco non può sbagliarsi nel credere e quando agisce come chiesa sotto il mandato di Gesù tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli quindi nelle forme nei metodi nelle modalità competenti tipo per esempio quando viene lanciato un anatematismo in senso stretto da un concilio o da un pontefice allora questo è un altro discorso ecco capito oppure quando c'è proprio una vera e propria scomunica perché mi dispiace leggere che insomma il Sacro Cuore di San Giuseppe sia stato oggetto di riserva da parte dell'autorità ecclesiastica chiamiamola così quando anche in un altro ciclo di catechesi ricorderete che abbiamo che il tema della Trinità creata e quindi abbiamo la Trinità in creata che è Padre, Figlio e Spirito Santo della Trinità creata che è Gesù la Madonna e San Giuseppe è un tema caro insomma alla tradizione spirituale diciamo così perfettamente cattolica e quindi cioè non capirei da un punto di vista dogmatico le ragioni di una censura verso il culto al cuore di San Giuseppe è perché il cuore immacolato di Maria sicuramente si può rendere culto al cuore immacolato di Maria è oggetto di una rivelazione privata riconosciuta come quella di Fatima quindi non si potrebbe diciamo così giustificare questa cosa dicendo ma il cuore di San Giuseppe è un cuore umano non è il cuore del figlio di Dio e quindi non bisogna venerarlo no perché abbiamo il cuore immacolato di Maria la Madonna non è una dea la Madonna è la più pura e la più santa tra le creature ma il cuore di San Giuseppe il cuore di San Giuseppe era un grandissimo cuore insomma ecco talmente puro e talmente santo da essere secondo soltanto al cuore immacolato di Maria quindi io se ho modo cercherò di verificare queste informazioni e così anche quelle relative a a eventuali insomma come dire come dire a alla fonte quindi chi è perché qui il testo non si limita a dire Roma o si limita a dire il favore della chiesa ma bisogna capire bene cosa è successo io adesso spero di aver tempo in questa settimana di controllare sul dancing esattamente cosa è successo quindi mi riservo eventualmente di tornare su questa questione e un'altra cosa adesso passiamo ad un altro argomento che sono ecco le messe in onore di San Giuseppe abbiamo un pochino di tempo ancora sì le messe di Santa Teresa consistono in sette messe solenni in onore di San Giuseppe da celebrarsi uno al mese dal 19 aprile fino al 15 ottobre festa di Santa Teresa questa tradizione certamente è nata in considerazione della grande devozione l'abbiamo visto in altri cicli di catechesi sempre su questa su questa rete che Santa Teresa aveva nei confronti di questo grandissimo santo di cui lei di cui lei era devotissima e alla cui devozione raccomandava tutte le sue suore e chiunque entrasse in contatto con lei evidenziando molto la potenza di San Giuseppe e la sua efficacia nell'ottenere grazie presso la Santissima Trinità Leone XIII alcune volte nel 1883 vedete Benedissimo l'Agnus Dei che rappresentava San Giuseppe con un giro nella mano destra e il bambino Gesù sul braccio sinistro e aveva l'iscrizione Sanctus Iosefus Ecclesie Cattolice Patronus Leo Decimus Tertius Pontifex Maximus Quindi questi Agnus Dei tanto per farvi capire io ne ho uno potrei forse per chi vedrà poi la catechesi in video ce l'ho addosso a me quindi ve lo posso mostrare in 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 visione ecco vedete allora che cos'è questa Agnus Dei l'Agnus Dei è un sacramentale particolare fatto dai pontefici per la verità ultimamente è caduto un po' in disuso perché gli ultimi ad essere stati realizzati mi hanno detto le sue ore dove l'ho preso che sono stati fatti da Paolo VI non so almeno fino a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI io sono andato 4-5 anni fa in questo monastero non erano stati ribenedetti quindi non ho notizia se Benedetto XVI oppure Francesco abbiano fatto cose di questo abbiano ripreso un pochettino questa 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 santa tradizione perché questo sacramentale che è scritto nel foglio che lo accompagna molto potente ed efficace contro sia per le persone che hanno problemi di ossessioni diaboliche ma sia una cosa molto particolare per le donne incinte cioè per le donne che non riescono a avere bambini oppure per le donne che hanno problemi con gravidanza e parti questo sacramentale era realizzato praticamente fondendo la cera del cero pasquale del papa con gli oli sacri crism olio dei catecumeni e olio degli infermi usati chiaramente nell'anno precedente quindi che anziché distruggerli venivano fusi insieme e con una serie di preghiere molto molto forti recitate in sede di confezionamento di questo sacramentale dal pontefice stesso e poi inserite vedete dentro una custodia diciamo in stoffa con immagini della 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 madonna generalmente perché questo è un sacramentale mariano e di 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 ispirazione diciamo così mariana o di altri santi e qui abbiamo appena ascoltato che leone tredicesimo avrebbe benedetto un agnuste che rappresentava san giuseppe con un giglio nella mano destra e il bambino gesù sul braccio sinistro e aveva l'iscrizione che vi ho detto san giuseppe patrono della chiesa cattolica leone tredicesimo pontefice massimo l'ultimo e diciamo così argomento di oggi il tempo scorre l'ultimo capoverso che vi leggo è che nelle arci di di della città del messico venivano benedette nel 1785 per la festa di san giuseppe delle candele per ottenere la liberazione dai fulmine dalle tempeste nel 1903 fu approvata per le regioni messicane la formula di benedizione dell'acqua di san giuseppe nello stesso anno la sacra congregazione dei riti concedeva la facoltà ordinaria di benedire in onore di san giuseppe candele cingoli anelli e medaglie l'olio di san giuseppe è in uso presso l'oratorio di san giuseppe a montreal ecco quindi qui abbiamo un ulteriore sacramentale anzi due sacramentali oltre a quelli visti la volta scorsa che sono appunto le candele di san giuseppe e l'acqua di san giuseppe ci fermiamo qui ci sentiamo la prossima settimana ecco sperando di poter dare delle maggiori delucidazioni per quanto riguarda il culto al cuore di san giuseppe quindi capire bene qual è in merito la posizione ufficiale se c'è della chiesa oppure se ci sono affermazioni di qualche uomo di chiesa o di qualche organo diciamo così non infallibile della chiesa quindi che lasci una certa libertà e margine di culto ai fedeli la mia benedizione a tutti Ave Maria e la mia benedizione Grazie a tutti